Ciao a tutti, sono Ysgamer e oggi siamo benvenuti in questo nuovo video Adesso sto inquadrando il paginetto che lo faccio vedere dopo Che ho preso qui alle doftre, cioè ho preso la fiera oggi Questo fucile è qui e volevo filmare l'unboxing Spero che il video vi piaccia Adesso lo sto facciutando un attimo Lo sto rompendo tutto del tutto C'è la plastica dentro il motor Questo qui, invece del fucile, proviamo a tirarlo fuori La leggerezza che ha, ha le mette che ci serve Però ok Però, oh, ce n'è di roba Più almeno questo qua Questo fucile qua sembra anche quello dei teschi di Metal Gear Sì Vediamo se Questa qua è la torta Secondo me c'è qualcosa che mi fa pensare Questo sia la torta Ma non so neanche se si Qua posso... Tecnicazzo serio Nooo Il mirino Sembra che si vuole tirarlo fuori Questo qua è carino Sarebbe bello se in qualche modo si potesse cambiare la lente questa qui Con quella del binocolo che così Intendiamo diventare un mirino telescopico Comunque questo qui il mirino Invece Staviamo il fucile Questo qua anche un po' Non so se non si sente ma il pisantino Qui c'è l'intendatura Qui tutto qua Se si tira Se si tira Sempre questo se si tira fuori Alla canna Non so come si fa a infilare comunque Si può sempre filare la canna Ora passa col tonno Tra l'altro non spiegare anche come si faccia mentre dentro Vabbè Sto registrando in tre ore Va bene così Va bene toh Spero il video vi sia piaciuto Ciao a tutti